Eccoci qua, questa è la prima uscita che faccio con un nuovo Equinox 800 della Minelab, multifrequenza, in un'area che è già praticamente stata strabattuta e vediamo se riesce a tirar fuori ancora qualcosa. Vediamo un momentino quali settaggi utilizzare. Avevo io già memorizzato un profilo utente, innanzitutto lo utilizziamo in multifrequenza, quindi una frequenza di 5, 10, 15, 20 e 40 in contemporanea. L'ho posizionato sul secondo programma, che è il programma Field, quindi il programma per campi, con qualche modifica nei settaggi. Allora, innanzitutto lo utilizzeremo in all metal, quindi senza alcuna discriminazione, con un tono del ferro, quindi di da 0 a 10, scusate, da meno 9 a 0, molto basso, per cui non dovrebbe dar fastidio. Qui possiamo eliminare quelle che sono le interferenze elettromagnetiche, lo possiamo fare in automatico. Ok, quindi ha scelto la frequenza sul canale 9, poi qui abbiamo l'abbattimento del terreno, che poi faremo. Qui abbiamo un volume totale di 23. Utilizzerò l'autoparlante per poter sentire poi i suoni anche nel video. Se noi teniamo premuto, allora andiamo a identificare i vari settori. Il settore 1, che è il settore, diciamo, del ferro, metto un volume molto basso, quindi il volume 2, e gli altri settori, sono ancora 4 settori, li lasciamo con il volume al massimo, quindi per quanto riguarda il non ferroso. Poi abbiamo un volume di soglia 5, che va bene con l'autoparlante, ha poco senso, va utilizzato soprattutto in cuffia, qui possiamo anche metterlo a 0. Qui abbiamo i toni, che sono 5 diversi, possiamo anche metterne uno solo, unico, due toni, quindi ferroso e non ferroso, i 5 toni oppure i 50, che sono i full tones classici. Lasciamo sul 5, qui abbiamo il discorso della discriminazione sui vari segmenti, ma tanto noi lo utilizziamo in all metal, quindi non ci sono problemi. E qui la recovery speed, questo è un campo che è già stato passato abbondantemente, però dovrebbe ancora contenere porcheria, quindi la lasciamo a una mezza via, diciamo, sul 4. Poi ritorniamo in ricerca e ora inizieremo a cercare. 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 Sì, 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 sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 iscriviti al canale Oggi qui... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 sembra quasi una parte di un sigillo è abbastanza stabile, è di sotto venti ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco qua, un manico di un cucchiaio da tavola, bello patinato. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.